Un gesto offensivo, forse è solo quello. Ma certo è che i gnoti nel corso della notte, hanno appiccato il fuoco, davanti al portone della casa natale di Albano Carrisi, a Cellino San Marco. La casa, che si trova in via di Vittorio, è disabitata, i danni sono relativi, ma l'incendio avrebbe potuto propagarsi, per appiccare le fiamme, sono stati utilizzati cartoni imbevuti di liquido infiammabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.